Ciao miei piccoli amici, sicuramente vi siete resi conto che nel mondo ci sono tante guerre, scontri e anche fame e miserie. Sembra che molte volte gli adulti non riescano a trovare una soluzione a questi problemi, ma Gesù ha dato un grande potere a noi bambini, quello di aiutarlo a vincere il male con la preghiera. Per questo il 18 ottobre noi bambini di tutto il mondo siamo invitati a pregare il rosario per portare la pace. Quando noi bambini preghiamo uniti, teniamo la mano di Nostra Signora e assieme a lei chiediamo a Gesù di compiere dei veri miracoli. Segnate il 18 ottobre sul vostro calendario e pregate con i vostri genitori, amici, insegnanti, fratelli e nonni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.